Allora oggi siete veramente in tanti, tante scuole, perché siete qua? Che cos'è per voi il Presidente della Repubblica? È una bella persona, un signore importante, vogliamo vedere. Secondo me è una brava persona e sono molto emozionato di vederlo. Mattarella è forte, è il più grande pezzo grosso dell'Italia. È un onore immenso, veramente. Anche voi qua per vedere il Presidente della Repubblica? È una persona, una grande figura e sono fiera di averlo avuto e di averlo come Presidente. Non posso che condividere e spero che queste visite, e questa visita in particolare, ci aiuti a recuperare un po' quello spirito di comunità che così tanto aveva caratterizzato quei momenti del 94. L'orgoglio e la condivisione, credo che sia importante. È una bella presenza e poi è una persona molto affabile e tutto mi piace. E' il mio sogno vedere il Presidente della Repubblica Mattarella. Perché? Perché a me mi piace anche la politica, sono abbastanza esperta di politica. Quindi da grande vorrei fare il politico, vuoi fare il Presidente della Repubblica? Sì, più Presidente tipo dell'economia, queste cose qua. Sì, più Presidente! Grazie!